si voleva fermare il tempo non per la nostalgia ma per avere un punto di riferimento per un ritorno in quegli anni lì si sentiva un po' anche liberi dalle autorità si vedeva un po' quella possibilità come di poter realizzare un po' i propri sogni io ho sempre visto la mia vita è già un po' come un film un film Grazie a tutti. Grazie a tutti.